buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vediamo una lente di ingrandimento 10x con reticolo si ha un sistema ottico molto preciso di qualità lenti in vetro e abbiamo sulla base un reticolo c'è un dischetto trasparente abbiamo un reticolo vediamo con reticolo qua non riusciamo a vedere ma è presente sul vetro sulla base e si può fare una misura la risoluzione 0,1 mm quindi vediamo delle piccole tacche si va a misurare così l'osservazione si avvicina alla superficie si vuole osservare queste lenti sono molto adatte per superfici piani la regolazione viene fatta in questo modo cioè ruotando dove si va ad appoggiare l'occhio c'è un sistema di messa a fuoco